Tutti vogliamo piacere alle persone con cui parliamo, ma questo potrebbe anche procurarci ansia da prestazione, magari senso di insicurezza fino ad arrivare a blocchi veri e propri e alla rinuncia a parlare e ad esporre per esempio una nostra idea. Questo mi dispiace perché rischiamo di perdere delle occasioni importanti per raccontare le nostre idee, le nostre proposte. Io sono Stefano Todeschi, consulente specialista in Public Speaking Pratico. Questo podcast è Parlo Ergo Zoom. Chi parla in pubblico esiste. In questo podcast analizzo i problemi di chi vuole parlare in pubblico con clienti, collaboratori, colleghi e vado alla ricerca di soluzioni per valorizzare l'elemento più importante che spesso noi trascuriamo quando parliamo e interagiamo con le persone. Noi stessi. Noi stessi con le nostre emozioni, i nostri stati d'animo, i nostri bisogni e i nostri desideri. In pratica qui condivido le bozze del mio nuovo libro. Magari alcuni capitoli non ci entreranno nemmeno, perciò puoi ascoltarmi qui oppure puoi leggere direttamente le bozze dalla mia newsletter. Qui sotto ti lascio il link per vederlo. Quando? Una volta alla settimana. Perché? Perché voglio aiutare le persone a parlare con clienti, collaboratori e colleghi in modo più semplice, rispettando se stesse e trovando il proprio stile unico. A presto!